Ciao, sono Nico Penzo, Presidente dell'Associazione Ex Calciatori della Sverona e sono qui per invitarvi a un triangolare a scopo benefico che si svolgerà a Castel Belforte in provincia di Mantua il 27 novembre a partire dalle 17.30. A questo triangolare a scopo benefico parteciperanno la nazionale forense Mantua, il calcio femminile Mantua rinforzato in questa occasione da alcune giocatrici del volley Mantua e tutti quanti noi ex calciatori della Sverona. Mi raccomando partecipate perché lo scopo è quello di aiutare le persone in difficoltà. Ciao, sono Gigi Sacchetti, avete appena sentito il nostro Presidente dell'Associazione Ex Giallo Brunico Penzo che vi ha ricordato che il giovedì 27 novembre ci sarà questa partita a Mantua a scopo benefico. Tra gli ex gialloblu che parteciperanno alla partita ci siamo chiaramente io, Nico, Piero Fanna, ci sarà Osvaldo Bagnolici, Gio Massietti, Domenico Volpati e tutti gli ex gialloblu che fanno parte della nostra associazione. È importante ricordare anche che dopo la partita ci sarà una cena dove saranno raccolti dei fondi e parte della raccolta andrà devoluta la ricerca, l'associazione che si occupa della ricerca contro la SLA. Quindi il progetto è Regala un Sorriso e vi invitiamo a essere tutti presenti perché riteniamo che sia molto importante aiutare, come ha già detto il nostro Presidente, chi ne ha bisogno.